A chi comprende il significato profondo di energia e memoria dell'acqua, a chi comprende che sprecare l'acqua non è semplicemente lasciare il rubinetto aperto, a chi crede non solo alle cose che vede, a chi vede cose che prima non vedeva, a chi sa parlare con l'acqua, a chi ha capito e compreso che parlare con l'acqua alla fine è parlare con se stessi, a chi è consapevole che nell'aria che respiriamo c'è acqua, a chi ha compreso che l'acqua è il nostro mezzo di comunicazione emozionale. Perché noi siamo il 70% acqua, quindi il mio 70% ed il tuo 70% sono uniti tramite l'acqua che esiste nell'aria e che avvolge tutti uomini, animali e vegetali. Nelle cose dette acqua ed aria ho evocato il Feng Shui, l'antica arte orientale anche del fare architettura, di cui dobbiamo tener conto o comunque conoscere il significato profondo pur vivendo nel nostro mondo occidentale. Ho trovato un sistema per diffondere le vibrazioni che producono il suono tramite un asse di legno, dello spessore di 27 mm ed in assenza di campi elettromagnetici. Tutto inizio prima, ma quando prima, prima, circa vent'anni fa cercavo l'armonia del suono nell'acqua di una piscina che avevo progettato e costruito con l'intenzione che non fosse una semplice spa, ma un luogo anche di meditazione. Ed avevo posizionato degli altoparlanti subacquei. Ed avevo trovato nel lavoro artistico di due amici, due fratti minori francescani, anche un'immagine armonica realizzata poi su una vetrata che, retroilluminata, diffondeva pace. Unendo tanti puntini, un magico filo mi portò, a distanza di qualche anno, ad occuparmi di un piccolissimo spazio, un'incubatrice per neonati prematuri, di cui mi raccontò il clima sonoro devastante e un'amica musicista. Già la parola incubatrice mi evocava l'incubo. Per non pensare dei cuccioli ospitati nelle incubatrici, venuti al mondo prematuramente e che lottavano per la sopravvivenza senza il salutare e naturale conforto della mamma, che spaventata aspettava parole confortanti da parte dei sanitari. Il grande desiderio di fare qualche cosa mi portò, dopo alcuni anni, non molti, a trovare un sistema per far sentire la voce della mamma ai neonati prematuri nelle incubatrici, senza inserire apparecchiature all'interno della stessa, perché questo era il problema vero, non si possono inserire apparecchiature all'interno dell'incubatrice. La ricerca mi portò a trovare il sistema che poi ho chiamato Mami Voice, che utilizza la sola vibrazione della voce della mamma, vibrazione che viene prodotta sulla parte trasparente dell'incubatrice e che permette al neonato di sentirne all'interno il suono. Però non solo il bimbo sente il suono, ma sente anche la vibrazione che produce quel suono, proprio come quando era nel grembo materno, prima di venire al mondo. Il risultato è duplice, il bimbo è sempre a contatto della madre e la madre si sente parte attiva nell'aiuto al figlio in grande difficoltà. Questo sistema di suoni e vibrazioni è stato poi sviluppato per gli adulti ed oggi viene utilizzato per diffondere vibrazioni in vari ambienti, ambienti domestici, ambienti di lavoro, in sale d'attesa ed anche in spazi dove la concentrazione va stimolata, come nelle scuole. Con lo stesso sistema Mami Voice ho poi realizzato un lettino armonico disegnato secondo la proporzione aurea e costruito in legno diabete con il quale è possibile fare un'esperienza olistica con l'apparato uditivo, l'ascolto del suono e con il resto del corpo le vibrazioni. Il risultato condiviso dalle centinaia di persone che l'hanno sperimentato mi riporta alla salute, al benessere e alla bellezza. Grazie per la visione! Grazie per la visione!